Quest'anno quello che noi abbiamo riproposto sono le antiche decorazioni che Gio Ponti ha disegnato per il Parco dei Principi di Sorrento nel 1960 e le riproponiamo qui in questa ambientazione bagno tutta Made in Italy, un Made in Italy che ovviamente riprende l'artigianalità perché il prodotto è fatto a mano così come voleva Gio Ponti, riprende la territorialità perché è tutto blu o azzurro come i colori del cielo e del mare di Sorrento e ovviamente riprende, riproponiamo, cerchiamo di enfatizzare questa creatività italiana firmata proprio da Gio Ponti un progetto ambizioso che ripropone un ambiente bagno molto particolare che anche se i decori sono stati creati nel 1960 però sono veramente molto molto attuali con in particolare una decorazione che è il decoro tipo 8 che viene magnificato in 5 metri per 5 metri, un pannello che parte dal pavimento e sale fino a parete quindi una proposta tutta Made in Italy per riportare ovviamente questa artigianalità di cui oggi un po' cerchiamo di, si parla tanto, cerchiamo di riproporla qui alla ceramica Francesco De Maio come da tanti anni e dal 1494 che questa azienda cerca di portare avanti la tradizione dell'arte ceramica fatta con le mani